Buongiorno a tutti e bentornati sul mio canale Narrazioni e Vita. Oggi torniamo a parlare di scrittura e lo facciamo affrontando la seconda persona narrativa. Dopo aver affrontato in un video generico di introduzione i singoli punti di vista e aver anche fatto un approfondimento ulteriore sull'utilizzo della prima persona narrativa, nel video che vi metto qui sopra, oggi parleremo per l'appunto di questa modalità, che di per sé è molto più originale delle altre persone narrative, ma è anche più difficile da utilizzare per una serie di motivi. Però andiamo per gradi. Allora, innanzitutto bisogna dire che l'uso della seconda persona narrativa, il tu al singolare oppure il voi al plurale, è meno diffusa della terza persona e della prima persona, particolarmente diffusa nella letteratura occidentale, soprattutto a partire dalla seconda metà del Novecento. La seconda persona narrativa viene però utilizzata in tutta una serie specifica di scritti, che hanno come caratteristica fondamentale l'implicazione. Se della prima persona narrativa vi dicevo che si potrebbe riassumerne il senso con la caratteristica della confidenza, cioè la confidenza che il narratore sta facendo al lettore, la seconda persona invece ha come caratteristica fondamentale quella dell'implicazione, cioè tu lettore sei implicato in ciò che io ti sto raccontando. E se si ha l'impressione che l'io narrante rimanga in realtà un po' in sottofondo o comunque nelle retrovie, in realtà bisognerebbe chiedersi questa implicazione da chi viene messa in atto. Nel momento in cui tu lettore vieni tirato dentro la narrazione attraverso la seconda persona, in realtà ti stai mettendo in relazione, forse anche una relazione forzata, forzosa, con l'io narrante, all'interno della quale tu lettore sei particolarmente, anzi esplicitamente, tirato dentro la storia. Mentre l'io narrante in qualche modo sembra nascondersi, però è ben presente perché è proprio colui che ti obbliga ad entrare dentro la storia. Allora, dicevamo che la seconda persona narrativa è particolarmente originale, ma che è anche difficile. È difficile sia da leggere, proprio per questo concetto di implicazione, che richiede un lasciarsi avvolgere, coinvolgere dagli eventi raccontati. E quindi se gli eventi raccontati sono particolarmente ostici, difficili da reggere, deve essere molto abile lo scrittore nel saper ti coinvolgere. E qui si presenta un po' la difficoltà della seconda persona narrativa, la capacità di coinvolgimento. Perché facilmente, soprattutto per testi molto lunghi, il tu o il voi all'interno della narrazione può trasformarsi in un elenco alla lunga un po' sterile di azioni o di argomentazioni, di soluzioni argomentative, per cui alla fine il testo potrebbe anche annoiare oppure il lettore potrebbe decidere di uscirne, di non lasciarsi più coinvolgere così direttamente. La seconda persona narrativa viene utilizzata in modo particolare all'interno di alcuni tipi di narrazioni. Per esempio, all'interno di certi romanzi, soprattutto attraverso uno scambio epistolare. Mi vengono in mente le ultime lettere di Jacopo Ortis, piuttosto che le lettere all'interno del romanzo Dracula di Bram Stoker. Oppure viene utilizzata nei librogioco, che chiamano in causa il diretto coinvolgimento del lettore. Infatti di solito i librogioco iniziano dicendo tu sei il protagonista e tutta la scrittura, dalle regole introduttive fino all'ultimo paragrafo della narrazione a bivi oppure della narrazione di altra tipologia che c'è all'interno del librogioco, è rivolta al lettore direttamente, quindi in seconda persona. Poi la seconda persona viene molto spesso utilizzata nella poesia, dopo vi farò anche un esempio. Oppure viene utilizzata nella pubblicità, no? Quanto spesso la pubblicità per riuscire ad accalappiare l'attenzione dello spettatore oppure per riuscire a vendergli il prodotto lo deve far sentire direttamente implicato all'interno di ciò che sta proponendo, di ciò che sta dicendo. Però poi c'è anche una modalità particolare di utilizzare la seconda persona che è costituita dalle sceneggiature, cioè ci sono alcune sceneggiature soprattutto di alcune serie televisive che si rivolgono allo spettatore direttamente dandogli del tu e quindi anche in questo caso chiamandolo direttamente in causa all'interno della scena rappresentata. Però dopo questa velocissima carrellata di elementi che vanno a costituire l'utilizzo della seconda persona e il motivo per cui secondo me la seconda persona è degna di essere utilizzata anche se soltanto in certi casi, ovvero sia per l'appunto l'implicazione, andiamo a vedere alcuni testi che fanno utilizzo di seconda persona. Sono testi molto famosi insomma che conoscete molto probabilmente tutti. Però cercheremo di capire attraverso questi brevissimi brani in che modo l'autore o l'autrice coinvolge, coinvolgono il lettore. Iniziamo ovviamente da Giacomo Leopardi. In una delle sue più belle poesie, cioè il canto notturno di un pastore errante dell'Asia, si rivolge addirittura alla luna dandole del tu. Infatti incomincia dicendo che fai tu luna in ciel? Dimmi che fai, silenziosa luna. Sorgi la sera e vai, contemplando i deserti inditi posi. Ancora non sei tu paga di riandare i sempi terni calli? Quindi qui è un rivolgersi con il tu alla luna per chiedere qualche cosa. Crea un rapporto, il poeta in questo caso, con un astro, quindi con un essere inanimato, con un oggetto, un qualche cosa, che però lui riempie di vita interrogandolo per ottenere un qualche tipo di risposta. Ovviamente in questo caso il tu della luna fa da specchio alla sua interiorità. Non a caso infatti la luna è uno dei simboli per esempio dell'interiorità o comunque dell'inconscio, della parte femminile oppure della parte ombrosa del proprio se. E quindi è utilizzato giustamente da Leopardi per confrontarsi in questo rapporto molto stretto tra un tu e un io. Poi un altro esempio, Ugo Foscolo, ultime lettere di Jacopo Ortis, per l'appunto quelle che vi accennavo. Vi leggo come inizia per esempio una brevissima introduzione dell'immaginario narratore, scrittore di queste lettere, cioè Lorenzo Alderani, che scrive al lettore. Pubblicando queste lettere io tento di erigere un monumento alla virtù sconosciuta e di consecrare alla memoria del solo amico mio quelle lacrime che ora mi si vieta di spargere sulla sua sepoltura. E tu, o lettore, se uno non sei di coloro che esigono dagli altri quell'eroismo di cui non sono egli non stessi capaci, darai, spero, la tua compassione al giovine e infelice dal quale potrai forse trarre esempio e conforto. Lorenzo Alderani. Quindi qui Foscolo sta chiedendo al lettore quella compassione, quella compassione che è necessaria per poter entrare all'interno della narrazione condivisa da queste lettere che sappiamo finiscono in modo tragico. Quindi anche qui c'è un'implicazione diretta che viene richiesta dallo scrittore. E poi la prima lettera inizia così. Il sacrificio della patria nostra è consumato, tutto è perduto, della patria nostra, quindi qui c'è un coinvolgimento ulteriore, e la vita seppure ne verrà concessa non ci resterà che per piangere le nostre sciagure e la nostra infamia. Il mio nome è nella lista di proscrizione, lo so, ma vuoi tu che io per salvarmi da chi mi opprime mi commetta chi mi ha tradito? Quindi vedete come c'è un coinvolgimento pieno e totale all'interno della narrazione. Passiamo ad un'autrice, Oriana Fallaci, che in lettera a un bambino mai nato si rivolge in maniera molto poetica, un po' come fa Leopardi nei confronti di una creatura che non è senziente e cioè la luna, in questo caso no, si rivolge ad un bambino mai nato. Stanotte ho saputo che c'eri, una goccia di vita scappata dal nulla. Me ne stavo con gli occhi spalancati nel buio ed un tratto in quel buio si è acceso un lampo di certezza. Sì, c'eri, esistevi. Addirittura vedete qui come la Fallaci si rivolga a questo bambino mai nato ovviamente al passato. E dunque si sta rivolgendo ad un tu, però posizionato in un momento temporale che non è più quello attuale. Quindi qui il coinvolgimento del lettore avviene in maniera differente rispetto alle altre narrazioni, perché qui la Fallaci sta chiedendo al lettore di entrare, di impersonificare questo bambino mai nato e quindi di mettersi al posto del bambino mai nato, di empatizzare con lui. È un procedimento che trovo molto interessante. Poi, David Foster Wallace. Dimenticavo di dire che un'altra delle tipologie narrative all'interno delle quali si può usare la seconda persona o viene spesso utilizzata la seconda persona è proprio la scrittura di articoli, il giornalismo. Considera l'Aragosta è una raccolta di articoli o di brevi saggi che David Foster Wallace, un grandissimo scrittore, che scrisse per vari giornali, mi pare di ricordare. Per esempio, il primo testo, Il figlio grosso e rosso. Sentite un po', perché poi c'è anche un umorismo in Wallace che è incredibile. L'Accademia Americana per la Medicina d'Emergenza lo conferma. Ogni anno, fra i 12 e i 24 maschi adulti statunitensi, vengono ricoverati al pronto soccorso dopo essersi castrati, con utensili da cucina, di solito, a volte con tenaglie. In risposta all'ovvia domanda, spesso i sopravvissuti spiegano che i loro impulsi sessuali erano diventati fonte di conflitto e ansia intollerabili. Il desiderio di completo appagamento, unito alla concreta impossibilità di ottenerlo, quando e come volevano, aveva prodotto in essi una tensione insostenibile. Quindi sembra che stia parlando di qualcun altro, sembra che non ci sia direttamente una seconda persona implicata, però sentite un po'. E ai 30 e più maschi testosteronicamente afflitti, i cui casi sono stati documentati negli ultimi due anni, che i vostri corrispondenti vogliono dedicare questo articolo, i vostri. E a quelle anime in pena che stanno prendendo in considerazione l'autocastrazione per il 1998, vogliamo dire fermi, giù le mani, buoni con quegli utensili da cucina e ottenaglie, perché forse abbiamo trovato un'alternativa. Quindi sta parlando a quelli che vogliono castrarsi, è meraviglioso. E poi in ultimo non potevo non citare uno dei miei grandi amori letterari, e cioè Paul Auster, nel suo diario d'inverno, che è tutto scritto alla seconda persona. Lui in questo diario d'inverno in realtà racconta di se stesso, quindi memorie di infanzia soprattutto, eppure sentite come le scrive, come le racconta. Pensi che a te non succederà mai, che non ti può succedere, che sei l'unica persona al mondo a cui queste cose non succederanno mai, e poi, a una a una, cominciano a succederti tutte, esattamente come succedono a tutti gli altri. I tuoi piedi scalzi sul pavimento freddo, mentre ti alzi dal letto e vai alla finestra. Hai sei anni, fuori nevica, e i rami degli alberi in cortile si stanno imbiancando. Vedete come in questo caso si tratti sì di una confidenza che l'autore sta facendo, quindi sotto certi aspetti potrebbe essere simile la funzione a quella della prima persona. Tuttavia c'è un'implicazione diretta, perché Paul Auster ci sta chiedendo non soltanto di metterci nei suoi panni, ma ci sta dicendo di guardare alla nostra vita e di cercare di capire in che modo ciò che capita a lui o che è capitato a lui è successo anche a noi. Una diretta implicazione all'interno della narrazione, perciò. Questo è il senso complessivo della seconda persona. Se avete qualche cosa anche voi da condividere e da dirmi su ciò che pensate sia bene utilizzare o sul modo in cui sia bene utilizzare la seconda persona, non avete che da scriverlo in calce a questo video. Io vi metto anche i link dei testi che ho utilizzato per farvi gli esempi. Non mi resta che chiedervi di mettere il mi piace se vi è piaciuto questo video. Vedete anche io sto usando la seconda persona plurale. Se volete seguite anche questo canale Narrazioni e Vita, perché io continuerò a proporvi video di questa tipologia. Ciao a tutti e alla prossima trasmissione!